Siamo con Silvia Di Natale, premio Ghinzane Kavur, che domani ci racconterà ancora una volta a Scienze Arte Ambiente il suo viaggio in Colombia. Quando ha fatto questo viaggio? L'anno scorso sono stata sei mesi in Colombia, piaggiando da una parte all'altra i paesi da sola. Questi viaggi in solitaria l'hanno portato in quale altre parti del mondo? Beh, non sempre sono state in solitaria, però spesso. Per esempio nell'Asia centrale, in Uzbekistan, oppure sono state in Pakistan, oppure nei tempi passati sono state nell'India, nell'Asia. E queste mille vite di cui parla il suo libro, quale vite sono? Le vite dei colombiani, sono andate in giro a cercare storie, storie di vite personali, facendomelo raccontare dalla gente, dalla gente comune. Un altro viaggio è quello qua a Pordenone a Scienze Arte Ambiente, le piace il festival? Sì, è un viaggio più tranquillo di quello della Colombia, però molto istruttivo anche questo, molto vivo, l'incontro con le scolaresche è stato veramente molto bello, molto attraente. Grazie mille! Grazie a lei, a voi!